Allora, durante la pausa ho sbirciato le domande che stanno facendo su Slack al corso in italiano e credo che ce ne siano due che possono essere interessanti anche per voi quindi faccio la domanda e vi do la risposta C'è uno studente dall'altra parte che chiede conta solo la funzionalità dell'applicazione, quella del progetto dell'esame o anche la cura di dettagli, per esempio l'estetica Ecco, soprattutto deve rispettare le specifiche e se c'è una funzionalità che deve essere, diciamo così, relativamente facile da trovare se non si trova la funzionalità è difficile poi riuscire a valutarla quindi non c'è, sicuramente non deve essere l'applicazione web più bella del mondo non è un corso di web design però deve essere vagamente utilizzabile, diciamo se scrivete nero su sfondo grigio scuro farà tutto quello che deve fare ma diciamo non semplificate la vita a né a chi deve usare l'applicazione web né a noi che dobbiamo correggerla né a me in questo caso che devo correggerla e in genere questo non è bellissimo e un'altra domanda che hanno fatto è ci sono limitazioni sull'uso delle librerie esterne? Soprattutto penso nell'ottica del progetto no, nel senso che se sapete usarle, sapete spiegare come funzionano potete utilizzare le librerie esterne se vi risultano utili per appunto per svolgere il progetto noi durante il corso useremo librerie esterne per esempio useremo Bootstrap per il CSS per dare lo stile alla pagina e il layout alla pagina quindi non costruiremo tutto da zero di conseguenza voi non dovete necessariamente ricostruire tutto da zero queste erano le due domande che voi o non avete fatto o che potevano essere interessanti e sull'esame volevo anche dirvi che sul sito del corso nella sezione esame c'è questa sezione che si chiama regole d'esame dove c'è la spiegazione se volete anche più dettagliata di quello che ho fatto io di tutte le regole dell'esame compreso qualche raccomandazione tra cui per esempio dovete usare React e non altri framework JavaScript dovete usare SQLite per il database e non MySQL server o altro per semplicità d'uso, per consegna e anche per rispettare le specifiche del progetto quindi questo è un lungo testo, è scritto in inglese perché di nuovo in parallelo sui tre corsi avendo un corso in inglese deve essere per forza in inglese non l'abbiamo tradotto onde evitare di cambiare qualche dettaglio che invece rimane nella versione inglese originale che abbiamo concordato con tutti i docenti quindi qui c'è tutta la spiegazione tutta la regola d'esame con anche qualche dettaglio in più rispetto a quello che vi ho probabilmente raccontato ma i concetti sono sempre quelli 24 punti più 6 più eventualmente 2 dei Big Lab quindi questo datevi un'occhiata prima di fare l'esame diciamo e così di non avere grosse sorprese per esempio c'è scritto che la submission deadline per il progetto è alle 23.59 del giorno prima la data d'esame quindi entro la mezzanotte del giorno ufficiale in cui è fissato l'appello del corso ecco tutti questi dettagli sono scritti qui erano un po' lunghi e noiosi da raccontare nelle slide quindi dategli pure un'occhiata questo è già aggiornato al 2021 ok allora parliamo di javascript come vi dicevo l'idea di questa di queste due ore che ci mancano in realtà è di parlare di javascript come linguaggio di programmazione partendo dalle cose base di javascript come linguaggio di programmazione io ho anche aperto adesso non l'ho ancora utilizzato Visual Studio Code perché mi piacerebbe non stare sulle slide per tutto il tempo ma anche mostrarvi qualche esempio che possiamo magari fare insieme qualche esempio molto semplice perché ovviamente parliamo delle cose base di javascript non parliamo ancora di cose particolarmente complicate però ecco per quello che vi chiedevo se riuscite se siete riusciti vi ho chiesto di installare il Node.js prima della lezione anche per appunto poter seguire meglio gli esempietti di codice che oggi faremo poi giovedì useremo lo stesso approccio giovedì parleremo di cose un pochino più avanzate come gli oggetti e le funzioni in javascript ma oggi cose base e per cose base ripartiamo un attimino dal goal che è quello di imparare javascript come un linguaggio perché è un linguaggio che volenti o nolenti comunque dobbiamo averci a che fare in quanto è uno dei tre linguaggi come vi dicevo che il browser capisce e supporta e l'obiettivo di oggi di questa prima parte del corso è quello di capire la specifica semantica e i pattern di programmazione che sono propri di javascript immaginando assumendo ovviamente che voi abbiate una conoscenza degli altri linguaggi di programmazione che quindi certe cose non bisogna spiegarvi cos'è una stringa in quanto già dovreste saperlo parleremo poi in particolare di un javascript aggiornato alla versione S6 quindi del 2015 perché è stato un passo molto molto significativo per javascript un'evoluzione positiva molto forte quella di S6 rispetto alle altre precedenti e anche rispetto a quelle successive che ci sono state e ci sono con circa un aggiornamento all'anno come funzionalità del linguaggio e useremo javascript sia per il back-end la parte server-side con node che in realtà ci permette anche di creare applicazioni desktop se volessimo e poi anche nel browser questo è un po' l'outline di oggi partiamo da che cosa è javascript due cenni sulla storia sulle versioni e poi struttura del linguaggio tipi, variabili, espressioni strutture di controllo if, for, array e string e come punto di partenza dovremmo avere una buona base va bene questo giusto per farvi vedere che javascript è diventato negli anni sempre più popolare adesso in questo momento è uno dei linguaggi principali che vengono utilizzati secondo una conferenza fatta da GitHub vedete che in questo momento in questo grafico javascript è il primo linguaggio più popolare come ranking nel 2020 seguito da python seguito da java seguito da typescript che in realtà è una versione diciamo così un sovralinguaggio di javascript è una versione statica di javascript ma essenzialmente javascript e poi ci sono altri linguaggi di programmazione subito sotto ma questo per dire che comunque è popolare e anche di nuovo è un linguaggio standard che i browser utilizzano quindi non possiamo farne a meno non possiamo ignorarlo o quantomeno non troppo javascript nonostante il nome lo dica questo è bene chiarirlo non ha niente a che fare con java è un linguaggio di programmazione a volte chiamato anche un linguaggio di scripting ma non ha niente a che fare con java nonostante abbia java nel nome è stato chiamato in questo modo per ragioni di marketing e quando è nato contate che javascript ha avuto una un'infanzia difficile in quanto la prima versione di javascript è stata scritta in dieci giorni e quindi molte decisioni che sono state fatte sono state fatte velocemente oppure per politiche della compagnia dell'azienda che lo stava sviluppando non per motivi tecnici o per motivi di sostenibilità del linguaggio a lungo termine è stato fatto diciamo molto velocemente in dieci giorni non dico della serie basta che funzioni ma probabilmente molto simile a quello è però oggigiorno un linguaggio di programmazione completo e al pari di molti altri linguaggi di programmazione nonostante questo inizio burrascoso e molto rapido questa slide vi mostra un po' di versioni di javascript come vedete è nato nel 95 con questa versione fatta in dieci giorni e poi è diventato a un certo punto un linguaggio standard vedete qui non si parla mai di javascript si parla di ecmascript ecmascript è lo standard la specifica standard del linguaggio da cui poi deriva il linguaggio di programmazione vero e proprio javascript per cui ES6 sta appunto per ecmascript versione 6 che è quella che appunto noi utilizzeremo in questo corso e vedete che rispetto al passato in cui si hanno aggiunto qualcosa tipo il try catch o hanno aggiunto i metodi per le string e nell'S6 che iniziano a esserci una serie di cose interessanti come le classi per esempio o i moduli quindi possibilità di importare esportare altre librerie altre cose e così via e poi ovviamente con un ciclo annuale vedete 2015 16 17 e così via sono sempre state aggiunte altre funzionalità funzionalità magari importanti ma comunque meno sostanziali rispetto a quelli S6 ed è per questo che noi facciamo un targeting a S6 inoltre tutti i browser moderni implementano senza problemi S6 mentre per le cose successive alcuni browser hanno un supporto limitato perché un conto è la specifica ecmascript che evolve negli anni quindi dopo S8 c'è stato un S9 c'è stato un S10 e così via un altro conto è quello che poi i browser possono implementare quello che i browser supportano di JavaScript esiste un sito che ne use si chiama che mostra che cosa delle tecnologie web quindi incluso JavaScript per esempio è supportato dai vari browser allora in questo caso questa è una cosa di HTML5 che utilizza JavaScript vedete che è supportato tutte le funzionalità sono supportate bene adesso non ci interessa tanto il dettaglio per esempio su Chrome tranne questa questa non è supportata su Chrome questa non si sa bene se lo sia supportata e su Edge ci sono vari punti di domanda su Firefox sono supportate ma ci sono delle note quindi questo respond with è sperimentale c'è una nota eccetera su Internet Explorer non è supportato su Safari questa funzionalità non è supportata in base alla versione di Safari per esempio su Chrome questo evento è supportato dalla versione 40 di Chrome non dalla versione 39 è dalla versione 44 di Firefox ma con delle note con delle accortezze che bisogna andare a vedere sotto in questa pagina quindi un conto è la specifica ECMAScript un conto è poi l'implementazione nei browser e in Node.js anche per cui la maggior parte delle cose diciamo ormai la totalità delle cose che sono in ES6 sono ormai implementate sono passati sei anni per le altre non tutti i browser sono allineati però questa è una cosa da tenere in considerazione nel mondo web ci sono delle tecnologie che sono magari standard che sono draft standard che stanno per diventare standard per cui il supporto nei browser o in Node nel nostro caso non è pieno non è completo o non c'è per niente quindi bisogna sempre stare attenti non solo quando parleremo di JavaScript ma anche quando parleremo di HTML5 quando utilizza appunto metodologie quando mette a disposizione funzioni per JavaScript che alcune cose possono funzionare in maniera levemente diversa in base al browser per esempio che si utilizza o in base alla versione del browser che si utilizza quindi questo è un primo warning da tenere in considerazione per il mondo web non tanto per JavaScript come linguaggio di programmazione ma per il mondo web che utilizza JavaScript ovviamente in maniera di nuovo obbligatoria come vi dicevo ECMAScript è il nome ufficiale dello standard di JavaScript e le varie S sono poi l'implementazione dello standard e S5 e anche S6 erano grandi versioni di JavaScript che hanno portato JavaScript ad essere un linguaggio al pari come dicevo prima di altri e molto ricco di funzionalità dopo S15 un intero comitato ha fatto poi release annuali della specifica soprattutto della specifica e questo comitato vedete è composto è supportato da Mozilla Google Facebook Apple Microsoft insomma aziende anche grandi che hanno sicuramente un peso sia nell'informatica sia nel mondo web ripeto per l'ennesima volta quello che vedremo da qui in poi e anche nel resto del corso quando parleremo di JavaScript sarà tranne quando è specificato S6 o chiamato anche S2015 in base all'anno in cui è stata fatta la specifica quindi non parleremo di per esempio la shared memory di S8 questo è uno screenshot di come appare la specifica ECMAScript se volete siete curiosi potete aprirla è una specifica formale del linguaggio quindi che descrive cosa deve essere fatto come deve essere fatto nei browser non nei browser e quant'altro come 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 JavaScript come la macchina virtuale che gestisce l'engine che gestisce JavaScript deve comportarsi nel browser fuori dal browser eccetera molto formale e anche tipicamente poco leggibile proprio perché è uno standard quindi è scritto con la terminologia propria degli standard in questo caso addirittura degli standard di programmazione per utilizzare JavaScript sia nei browser sia in node sia sul computer abbiamo bisogno di un engine e attualmente esistono quattro engine diciamo così nel mondo nel panorama informatico esiste l'engine v8 di google che è utilizzato in chrome ma anche utilizzato in node ed è anche utilizzato in edge che appunto è quello che all'interno del browser o in realtà all'interno di node permette di di interpretare di capire di eseguire il codice javascript queste sono tutte implementazioni dell'engine javascript rispetto alla specifica ecmascript rispetto a una delle specifiche ecmascript abbiamo appunto il v8 di chrome mozilla dentro firefox usa spider monkey che è un'altra implementazione diversa rispetto al v8 di google in edge microsoft aveva un suo engine poi l'ha adottato anche lui quello utilizzato da chrome e apple ha il suo engine che si chiama javascript core che è implementato in safari sia safari mobile sia safari desktop quindi vedete diversi engine tutti che implementano quella stessa specifica e quindi poi avremo diversi supporti perché sono engine diversi per quanto riguarda la compatibilità di javascript come linguaggio di programmazione javascript è backward compatible quindi ogni volta che qualcosa è accettato come javascript valido quello lo sarà per sempre non lo sarà mai invalido magari viene sconsigliato ma sarà sempre supportato quindi il comitato che gestisce ECMAScript dice we don't break the web non rompiamo il web appunto proprio per sottolineare che non ci sarà mai un cambiamento futuro nella specifica del linguaggio che causerà del codice scritto 15 anni fa a diventare invalido magari non funzionerà tanto bene magari genererà delle eccezioni di sicurezza e quant'altro ma continuerà a essere javascript valido quindi è compatibile all'indietro non è compatibile all'avanti nel senso che le nuove addizioni al linguaggio non funzioneranno nei vecchi engine e potrebbero addirittura rendere il programma inutilizzabile e farlo cresciare quindi se noi prendiamo un browser che ha l'engine allineato a S6 e scriviamo un programma javascript per S11 ci saranno quelle funzionalità in S11 che sono valide che sono accettate dallo standard ma che non trovano la sua implementazione nell'engine e quindi non funzioneranno di default questo si porta dietro due scelte la scelta dell'essere backward compatible si porta dietro del fatto che javascript contiene al suo interno delle semantiche delle strutture che sono vecchie e sono anche potenzialmente pericolose o non particolarmente brillanti diciamo così e possono generare problemi o in fase di sviluppo o in fase poi anche di esecuzione del codice e una cosa che hanno fatto in parte per limitare questi problemi per appunto rimuovere le semantiche per limitare il problema dato da questa backward compatibility è introdurre un modo che si chiama strict mode che è un modo che noi utilizzeremo durante il corso sempre che in alcuni casi è implicito attivato implicitamente in altri casi dovremo noi indicarlo explicitamente nel file javascript che è un modo che disabilita tutta una serie di funzionalità che sono appunto vecchie e potenzialmente pericolose e lo vedremo fra poco alcune di queste o anche se volete diciamo così bizzarre rispetto ad altri linguaggi di programmazione mentre il fatto di essere forward compatible viene risolto se volete viene aiutato i problemi che derivano da questo vengono aiutati da varie librerie che permettono di tradurre javascript moderno diciamo così in un javascript più antico quindi voi scrivete idealmente una sintassi javascript moderna di S11 voi potete utilizzare per esempio Babel e Babel converte la sintassi nuova di javascript nella sintassi vecchia precedente per cui magari il browser che voi avete o su cui dovete far girare l'applicazione web perché magari non è il vostro ma è un browser di qualcuno di un'azienda della popolazione generale per cui non siete sicuri che abbiano tutti l'ultimissima versione di Chrome o Firefox ecco questi software come Babel ci permettono di tradurre il codice automaticamente da una versione più nuova a una versione che sia supportata più vecchia e più supportata quindi utilizzando strumenti come questi ripeto potreste scrivere paradossalmente codice javascript con la sintassi di S11 e averla convertita in una sintassi più vecchia con Babel o anche con altre librerie che riempiono ovviamente se voi utilizzate una funzionalità che non esiste che non esisteva in precedenza si possono utilizzare delle librerie che siano definite dagli utenti o no e che appunto vi permettano di avere quelle feature anche su versioni più vecchie quindi diciamo c'è un intero ecosistema costruito intorno che aiuta a risolvere i problemi di questa backward e forward che possono essere introdotti se sono introdotti da questa backward e forward compatibility vi dicevo l'engine l'engine fa parte di un execution environment e questa slide vi fa vedere alcuni execution environment per esempio node è un execution environment che usa l'engine di chrome soprattutto per la parte server side e come vedete qui ci sono un po' di link ma già alcuni abbiamo visti esiste node esiste l'execution environment per linux o per sistemi unix like esiste per esempio per windows ed esiste anche per vsl2 sotto windows anzi una raccomandazione che posso farvi se volete un ambiente più simile a un ambiente linux o unix like è quello di utilizzare invece di node.js per windows nativo normale di utilizzare node.js quello che viene messo a disposizione per il linux subsystem che è disponibile in windows 10 se ovviamente state utilizzando una versione di windows 10 che supporta questo in questo modo voi avrete windows continuerete a utilizzare questo operativo ma potrete utilizzare un node una versione di node che è più simile che diciamo è quella perché è l'ambiente che viene poi simulato è quella di un sistema linux in particolare ubuntu 20.10 nell'ultima versione di vsl le stesse execution environment possono anche essere utilizzate nel browser o come runtime quindi quelli sono inclusi all'interno di un browser quando lo installate o come strumenti di sviluppatori che ogni browser ha e poi ci sono anche una serie di siti qui sono indicati due ma ce ne sono sicuramente molti di più che possono essere utili per capire come funziona javascript come linguaggio di programmazione quindi se c'è qualcosa di strano e volete più o meno visualizzare come funziona si possono per esempio utilizzare questi che sono siti online servizi online e quindi non richiedono di installare niente per esempio fatemi aprire questo javascript tutor questo javascript tutor è una versione javascript di un tutor che è fatto per python in realtà in cui potete per esempio c uguale 5 console.log potete scrivere codice javascript se non preoccupatevi suppongo sia abbastanza facile capire cosa cosa fa questo programma e vi permette di vedere linea per riglia linea cosa succede quindi voi potete eseguire l'intero codice di colpo oppure andare avanti step by step quindi per esempio se voi premete avanti vedete che viene creato in memoria una variabile c che contiene dentro 5 e poi questo 5 viene stampato se ovviamente invece di c usate qualcosa tipo un array voi vedete anche l'esecuzione andiamo in fondo vedete anche come in memoria viene rappresentato l'array che ovviamente non è che i valori dell'array sono memorizzati dentro la variabile ma c'è un riferimento all'array quindi questa questa variabile è solo appunto un riferimento a un array che è memorizzato in memoria esattamente come per altri linguaggi di programmazione in realtà ma questo vi permette se volete di capirlo e di visualizzarlo anche graficamente e di vedere l'output passo per passo tutto insieme quindi può essere di nuovo uno strumento aggiuntivo per capire come funzionano certe cose o perché certe cose funzionano in maniera strana se volete o non come voi vi aspettavate questo è un esempio di javascript tutor un pochino più complicato rispetto a quello che ho fatto io ma essenzialmente lo stesso è un tool che se volete potete utilizzare noi magari lo useremo qualche volta e i browser tutti i browser hanno anche una console javascript in cui potete scrivere codici javascript e vedere l'esecuzione esattamente come abbiamo fatto adesso con javascript tutor per esempio in chrome se voi fate ispezione elemento potete andare nella console in questo caso vi fa vedere gli errori di questa pagina ma qui potete scrivere esattamente come abbiamo scritto prima console.log 5 e qui stampa a schermo 5 console.log ormai l'avete capito è il modo per fare la print a schermo di qualcosa che sia una variabile che sia un numero che sia una stringa quant'altro come solito se avete domande o cose poco chiare troppo veloce troppo lento non fatevi problemi a dirlo quindi questo javascript diciamo così in generale qual è la struttura di un programma javascript allora un programma javascript parte dal concetto che un programma javascript corrisponda a un file in quanto ogni file è caricato indipendentemente dagli altri e vari file possono comunicare tra di loro attraverso uno stato globale che noi useremo raramente ma soprattutto attraverso un meccanismo di moduli che ci permette appunto di importare esportare variabili funzioni da un programma javascript un file a un altro file javascript javascript come funziona per l'esecuzione prima di tutto javascript fa l'engine l'execution environment fa una parsificazione dell'intero file quindi prima di tutto l'engine legge l'intero file dall'inizio alla fine da riga 1 a riga 100.000 e poi dopo questa fase di parsificazione se va tutto bene inizia l'esecuzione riga per riga dall'inizio alla fine e essendo un linguaggio standard avendo uno standard che è appunto l'ecmascript si appoggia a una libreria standard che sono una serie di API Application Programming Interface quindi funzioni metodi che sono fornite dall'execution environment che sono fornite dall'edge quindi l'execution environment fornirà alcune funzioni proprie di javascript aggiuntive rispetto a javascript per fare varie operazioni e queste sono fornite dall'execution environment quindi alcune funzioni per l'API saranno fornite da node e saranno specifiche per node altre invece magari sono fornite dal browser e allora per esempio il browser avrà dell'API per intercettare i click perché è una cosa che ovviamente a un browser serve sapere che una persona abbia cliccato su un bottone su un link e quant'altro mentre questa stessa API per intercettare i click magari non serve non c'è in node.js perché invece lì non c'è nessuno che clicchi da qualche parte e viceversa in node ci saranno delle API per accedere a file system mentre nel browser queste API saranno diverse o saranno limitate proprio perché è un ambiente in cui si esegue javascript molto diverso un browser rispetto a node che gira a livello di sistema operativo javascript è poi scritto in unicode quindi supporta tantissimi caratteri e anche quelli non latini inclusi per esempio le emoji qui c'è un piccolo esempio in cui si mostra che mettiamo un emoji all'interno di una variabile javascript e questo ci dà molta flessibilità possiamo anche usare lettere accentate e quant'altro ma non bisogna ovviamente abusarne eccessivamente scriviamo sempre del codice che sia ben scritto ben chiaro e comprensibile si può fare se servisse supporta lettere accentate caratteri particolari emoji e quant'altro quelle standard quantomeno i punte virgola alla fine della frase non sono obbligatori vengono inserite automaticamente secondo delle regole per diciamo così sanità mentale di tutti noi quello che vi raccomandiamo è quello che faremo sempre è inserirli perché ci sono alcune regole per cui alcuni modi di fare alcune parti di codice che potete scrivere in cui voi supponete magari che ci sia un punte virgola correttamente e magari lui lo inserisce dove non lo volete e allora è meglio a quel punto inserirli in maniera esplicita così siete sicuri di quello che fate e poi case sensitive quindi una variabile che si chiama minuscola è diversa dalla stessa variabile con le lettere maiuscole i commenti sono come in C niente di particolare i litera gli identificatori partono con una lettera con un dollaro con un underscore non possono partire con un numero ha alcune parole riservate come tutti i linguaggi di programmazione for è una parola riservata catch è una parola riservata try è una parola riservata e ha una sintassi simile a quella del C quindi non è qualcosa di particolarmente diverso da quello che magari siete abituati già a usare ma avete visto in questi piccoli esempi che sono nelle slide che la sintassi è molto simile non è niente di strana come vi dicevo i punte virgola sono inseriti automaticamente noi vi consigliamo di inserirli ma sono in realtà un argomento di dibattito all'interno per gli sviluppatori javascript c'è chi dice sì bisogna inserirli c'è chi dice no non bisogna inserirli bisogna sapere le regole chi sta in mezzo e quant'altro questo perché javascript inserisce i punti virgola quando c'è bisogno quindi uno può affidarsi se vuole di quello che fa javascript e quando l'inserisce l'inserisce quando una riga nuova parte con del codice che interrompe la riga corrente quindi quando scrivete un'istruzione poi andate avanti in un'altra istruzione inserisce i punti virgola quando la linea successiva inizia con la parentesi graffa chiusa quindi è l'ultima riga magari in una funzione in un cicloforo e quant'altro e lo inserisce quando c'è un return quando c'è un break quando c'è un throw quando c'è un continuo nella riga in cui c'è appunto un return eccetera però quindi queste sono le regole generali però per esempio se una nuova riga inizia con la parentesi tonda o con la parentesi quadra in quel caso non viene inserita una semicolone in alcuni casi può portare a comportamenti un punto e virgola in alcuni casi può portare a comportamenti inattesi che non ci si aspetta e quindi non si capisce bene perché magari il programma smette di funzionare o dà un certo errore quindi come linea guida cerchiamo di mettere il punto e virgola anche per facilità nell'imparare mettiamo il punto e virgola quando mettiamo il punto e virgola sempre quando dobbiamo metterli in modo da riuscire a intercettare anche se fosse casi particolari più facili rispetto a fidarsi interamente di javascript che ci pensi lei ecco noi nell'intero corso seguiremo più o meno diciamo lo stile la guida di stile per javascript di google non solo per il punto e virgola ma anche per per altre per altri aspetti in quanto javascript ha uno standard che specifica come funziona ma non specifica magari come si scrivono le variabili se chiama il case o in qualche altro formato quindi noi in queste slide e nelle lezioni cercheremo di seguire la stile appunto la guida messa a disposizione da google a questo indirizzo per per tutto javascript e in particolare quella guida dice inserite i punti virgola dopo ogni statement dopo ogni istruzione quindi noi è quello che faremo cercheremo di inserire i punti virgola dopo ogni istruzione ma sappiate appunto che i punti virgola se non li inserite vengono inseriti automaticamente da javascript a volte dove ve li aspettate magari a volte no e quindi di nuovo può essere sorgente di confusione o di comportamenti inaspettati un'altra cosa che noi useremo sempre è appunto questo strict mode che vi accennavo prima è una direttiva introdotta in ES5 che nel codice si scrive in questo modo aperte virgolette use strict chiuso virgolette punte virgola la prima riga del file se volete applicare lo strict mode dovete applicarlo alla prima riga del file prima di scrivere qualunque altra cosa in alcuni casi per esempio con le classi quando voi utilizzate le classi è implicito lo strict mode viene attivato anche se non lo scrivete però prima di arrivare le classi mancherà ancora un po' e quindi per ora scriviamo sempre use strict anche perché così evitiamo di dimenticarci questo ci fa sì che il codice venga eseguito in questo modo strict in questo modo stringente che come vi accennavo prima risolve impedisce alcuni comportamenti potenzialmente pericolosi del codice e anche limita alcune particolarità alcune funzionalità nel codice che non sono del linguaggio che non sono tanto magari comuni o tanto apprezzate o possono generare di nuovo confusione o errori per esempio qui c'è un esempio ma lo strict mode impedisce di scrivere variabili implicite ma adesso le vedremo in particolare mentre senza lo strict mode si possono risolve degli errori che possono essere difficili per l'engine javascript di performare delle ottimizzazioni dato che javascript costruisce prima un albero fa prima il parsing del file e poi lo esegue ecco in questa fase di costruzione del parsing ovviamente ci possono essere delle ottimizzazioni per l'esecuzione quindi lo strict mode può aiutare l'engine per avere ottimizzazioni migliori più facili e quindi può addirittura in alcuni casi rendere il codice più veloce dello stesso silenzico codice non il strict mode proprio perché elimina alcuni edge case e questo parser non deve più preoccuparsi dei casi particolari che potrebbero o non potrebbero esserci nel file e elimina questo è altrettanto importante alcuni errori silenti di javascript per cui javascript in alcuni casi non ti dava errore ma non lo mostrava a schermo non lo lanciava in questo caso lo strict mode forza anche quegli errori silenti ad essere lanciati come fossero eccezioni quindi diventano visibili e questo aiuta ovviamente lo sviluppatore non si possono definire due proprietà o parametri di funzione con lo stesso nome senza lo strict mode si può e questo ovviamente può creare di nuovo confusione può creare ok questa variabile qual è qual è la proprietà a come sto riferendo quella che ho definito due righe fa o quella che ho definito dieci righe fa allora non potendolo chiamare con lo stesso nome ovviamente ci semplifica la vita e semplifica la vita a tutti non solo allo sviluppatore ma anche all'engine che realizza queste queste ottimizzazioni e quant'altro e così via quindi fa una serie di ci dà una serie di supporto che non solo toglie qualche problema nel linguaggio nella sintassi ma anche aiuta a lanciare qualche errore che magari prima non veniva lanciato ottimizzare meglio le cose e quindi in generale è meglio usarlo e di nuovo noi all'interno del corso lo useremo sempre quindi la prima riga di ogni file javascript deve avere aperte virgolette use script chiuso virgolette punte virgola perché è uno statement e quindi è punte virgola e se un engine la cosa carina dello strict mode è che se un engine fosse vecchio e non conoscesse lo strict mode non è un problema perché questa verrebbe interpretata come una stringa e quindi verrebbe tranquillamente ignorata dal programma quindi se l'execution environment sa che cos'è lo strict mode riesce a eseguire il codice in strict mode se l'execution environment non sa cos'è lo strict mode questa riga alla prima riga del file viene interpretata come una stringa con un punti virgola in fondo e quindi viene accettata senza dare errori ma ovviamente poi non viene implementata quindi questa è compatibile con le versioni precedenti offre una buona compatibilità un'ottima compatibilità con le versioni precedenti allora javascript come avete visto non è un linguaggio tipizzato nel senso che come avete visto qui in questo esempio io ho scritto variabile uguale a 5 non ho scritto che questo è un intero o un numero però ovviamente io posso anche mettere in questa stessa variabile non una posso mettere un numero posso mettere una stringa e se lo eseguiamo vedete che adesso se l'avessimo eseguito passo passo vedete che prima in questa variabile c'è 5 che è un numero e poi c'è una stringa che non è più ovviamente un numero e poi ovviamente viene stampato il valore corrente della variabile questo non è niente di di particolare questo perché mentre appunto javascript le variabili in javascript non hanno un tipo i suoi i suoi contenuti i suoi valori invece ce l'hanno quindi javascript ha una serie di tipi di valori che sono primitivi o oggetti in particolare ci sono 5 tipi primitivi ci sono le stringhe ci sono i numeri qualunque tipo di numero intero non intero reale eccetera ci sono i booleani vero o falso e poi ci sono altri due tipi primitivi uno che si chiama null che potete relazionarlo facilmente ad altri linguaggi e uno che si chiama undefined che è un valore vero e proprio di un tipo quindi una variabile può avere valore abc può avere 42 può essere true può essere null o può essere undefined quindi non definita e poi ci sono altri tipi di valori che non sono primitivi ma sono oggetti e sono gli array le funzioni e altri oggetti che sono definiti dagli utenti come vedete qui c'è un'anteprima le stringhe si possono definire in tre modi diversi almeno con le virgolette doppie con la virgoletta singola o con questo apice a tick tipo l'accento di di già per esempio della parola già questi sono tre modi per definire le stringhe questi due sono davvero equivalenti noi preferiremo quello con la virgoletta singola questo si chiama anche string literal e ci permetterà di fare anche cose in particolare per manipolare la stringa che gli altri due permettono ma in altre modalità quindi tre modalità di fare stringhe numeri sono semplicemente numeri i booleani sono veri o falsi ho scritto quella lettera minuscola e poi ci sono array funzioni e quant'altro una cosa da notare sui booleani è che sono hanno come valori assumono come valore vero o falso ma che quando si converte qualcosa in booleano per esempio per confrontare due 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 variabili tra di loro ci sono alcuni valori che vengono definiti come falso e alcuni valori che vengono definiti come fossero veri quello che qui chiamiamo falsi and trufi per esempio la stringa vuota quindi solo virgolette è definita come falso quasi falso questo falso anche null è falso anche questo undefined è falso anche zero e anche meno zero in javascript lo supporta è definito come falso e anche qualcosa che non è un numero not a number è definito come falso mentre a differenza della stringa vuota che è definita come falsa è l'oggetto vuoto o un array vuoto in anticipazione l'array si definisce così o un oggetto si definisce così l'oggetto è quello che in altri linguaggi chiamavate mappa o dizionario si definisce in questo modo questi questi cosi vuoti sono veri vengono interpretati come vero mentre per esempio la stringa vuota è interpretato come falso ma facciamo due esempi allora usiamo Visual Studio Code io ho creato una cartella qui la vedete si chiama lezione 1 è una cartella vuota in questo momento ho aperto Visual Studio Code e adesso Visual Studio Code che è un editor c'è un file di testo vuoto quando lo aprite ha quattro opzioni qui che aprono diverse cose questo per cercare questo per eseguire il codice quello per installare estensioni questo per il version control eccetera e questo è l'explorer che vi permette di aprire una cartella come abitudine quantomeno per java scritto è buona cosa aprire una cartella e collocarci così all'interno di questa cartella questo perché se noi dobbiamo chiamare per esempio il terminale che è incluso dentro dentro Visual Studio Code noi se apriamo una cartella avremo già il terminale collocato esattamente là in quella cartella e quindi potremo fare le operazioni direttamente in quella cartella rispetto a invece non dover andare a navigare da qui fino alla cartella e altre operazioni dell'editor sono poi localizzate all'interno della cartella quindi è più facile raggiungere certe funzionalità e in più ci mantiene tutto all'interno di un unico progetto e quindi se impostiamo qualcosa in particolare per l'esecuzione di un file vale per quel file e per tutti i file all'interno di una cartella quindi semplicemente la cartella è vuota io apro la cartella da qui o dal menu file lui si ricarica e semplicemente mi fa vedere che qui c'è il nome della cartella ora io questo lo metto a tutto schermo e qui dentro creo un file che possiamo chiamare inizio.javascript allora notate che nel momento in cui io ho chiamato un file inizio.js ha preso il logino ggs qui e qui sotto c'è scritto javascript questo perché visa studio code ha riconosciuto questo file come un file javascript e quindi mette a disposizione tutto l'esecuzione tutto l'ambiente di sviluppo per javascript se l'aveste chiamato con un'altra estensione avrebbe cercato di fare un match con un altro linguaggio di programmazione fatemi aumentare un po' lo zoom e chiudere l'explorer così abbiamo più spazio vedete bene se scrivo qui o devo aumentare ancora un po' lo zoom ok allora abbiamo prima di parlare di booleani facciamo delle variabili io adesso vi ho fatto vedere che esiste una variabile che si può definire così let è una parola chiave per definire una variabile in javascript si possono definire variabili in quattro modi c'è let c'è const fatemela definire solo così c'è const c'è var e poi si può definire una variabile anche in questo modo semplicemente scrivendola ora quest'ultimo modo è un pochino il male assoluto diciamo così e soprattutto non è possibile definire una variabile così quindi di uguale 5 per esempio nello strict mode quindi questo è un modo che esiste ma è un modo che sappiate che esiste e dimenticatevelo perché è un modo che ci deriva da vecchie vecchie versioni di javascript in cui c'era quella modalità di definire variabili e c'era solo bar da s5 hanno aggiunto anche let e const che sono dei modi più moderni e un pochino più funzionanti anche di definire variabili più funzionanti nel senso che si comportano in maniera più simile a come voi avete siete abituati ad usare variabili in altri linguaggi di programmazione a differenza di bar quindi dato che non vogliamo usare quel di uguale a 5 come prima cosa qui scriviamo use strict punte virgola ok queste sono tre variabili qual è la differenza tra queste tre variabili soprattutto tra let var è una variabile generica che ha delle sue proprietà sì la differenza tra let e var non l'ho ancora detta adesso la ripeto se non per dire che var è lì da più tempo è storicamente presente let e var sono due modi di definire variabili variabili quindi possono cambiare quindi posso mettere a uguale 5 c uguale 5 e poi posso dire c uguale 6 e a uguale 6 no? sono variabili mettiamo dentro oppure c uguale ciao e 6 uguale miau no? sono variabili ci mettiamo dentro quello che vogliamo possiamo mettereci numeri interi numeri con la virgola numeri non c'è una differenza tra l'uno e l'altro sono sempre numeri sono di tipo numero e se noi eseguiamo questo lui dovrebbe funzionare senza problemi const invece è una variabile che noi non possiamo ridefinire è in un certo senso una costante quindi un qualcosa che noi vogliamo definire una volta e poi non ridefinirla più quindi se io per esempio eseguo questo e facciamo un console.log quindi programmi molto stupidi passatemi ma giusto per capire a e b se io eseguo questo posso andare per eseguirlo posso andare nel menu run e fare run without debugging oppure per determinare scrivere selezionare in quale environment voglio eseguirlo noi lo eseguiamo in node vedete mi dice processo uscito con codice 1 questo perché in realtà appunto noi non possiamo vediamo se ci dà anche un errore un po' più furbo di così node inizio ok vedete ci dice che b uguale 5 alla riga 9 ci dice assegnazione a una variabile costante non si può fare quindi b const sta per le costanti var e let invece permettono di come potete vedere qui di essere ridefiniti a piacere quindi se noi adesso facciamo così cancelliamo questo b e salviamo e rieseguiamo questo vedete che lui stampa prima il valore di c poi il valore di a e poi il valore di b allora qual è una differenza tra var e let e quale di queste utilizzare allora come regola cerchiamo di utilizzare const il più possibile quindi quando dobbiamo memorizzare qualcosa che non cambierà o che non cambierà fino a un certo punto ma che poi capirete questo certo punto cosa vuol dire e usiamo const altrimenti usiamo let perché usiamo let e non var var è un'altra di quelle cose che sappiate che esiste ma ogni volta che leggete var fate finta che c'è scritto let e se dovete prendere un codice da qualche parte che scrive var qualcosa quando lo mettete nel vostro programma scrivete let qualcosa perché var permette di fare quello che in javascript si chiama hoisting quindi usare una variabile usare una funzione prima di averla definita cosa vuol dire vuol dire che se io per esempio scrivo c uguale 5 e poi definisco definisco la variabile qui ma faccio anche console.log di c prima di definirlo quindi riempio una variabile senza averla definita la stampo senza averla definita e poi la definisco quindi un comportamento abbastanza strano se io eseguo questa cosa qui lui non mi dà errori e funziona questo si chiama hoisting il potere utilizzare qualcosa in javascript prima di averlo effettivamente definito perché appunto è definito qui ma noi l'abbiamo usato sia qui per metterci dentro una variabile sia qui per stamparlo questo hoisting funziona anche vale anche per le funzioni perché io posso in javascript posso usare una funzione prima di averla definita ed è abilitato dal fatto che javascript non esegue riga per riga ma prima costruisce fa il parsing di tutto il file poi dopo lo esegue quindi facendo il parsing di tutto il file lui dice ok io al momento non so cos'è c ma ci metto dentro 5 poi qui voglio stampare c ah guarda adesso qui a riga 7 so che cos'è c so che c è un var e quindi a questo punto implicitamente dico ok questo è quello stesso var c e quindi non do errore in esecuzione ma eseguo correttamente questo ovviamente come potete immaginare può darvi qualche problema in fase di sviluppo perché magari usate una variabile poi la definite dopo e poi non ve la ricordate più eccetera e dato che var potete mettere quello che volete dentro per esempio ciao a quel punto è andato a scrivere qualcosa questo comportamento di hoisting let non ce l'ha per cui se noi facciamo la stessa cosa quindi e poi qui scriviamo let a e salviamo vedete che invece lancia un errore come in realtà ci aspetteremmo non si può accedere a una funzione prima di averla inizializzata allora let impedisce questo hoisting const anche impedisce questo hoisting var invece lo permette quindi in origine javascript aveva solo var e il tipo diciamo di variabile senza parola chiave prima in tempi recenti hanno aggiunto let e const per ovviare a tutta una serie di problemi tra cui questo che var e l'altro mettevano a disposizione ora l'altro modo è vietato dallo strict mode var funziona ma occhio che usando var c'è questo problema dell'hoisting quindi di nuovo la regola d'oro la regola facile se volete anche non usiamo var usiamo let e const che si comportano come si comporterebbero delle variabili normali quindi non potete utilizzarle prima di averle dichiarate mentre con var voi poteste appunto ripeto utilizzare la variabile da riga 3 e dichiararla alla riga 800 e per javascript non avrebbe nessun tipo di problema questo giusto per darvi un riferimento è anche presente nelle slide qui dove dice hoisting no vedete il let non ha hoisting il const non ha hoisting il var si ha l'hoisting e vedete che indica come let e const come preferite quindi cerchiamo di usare queste il var cerchiamo di non usarlo perché ha questi comportamenti strani se volete e la modalità implicita invece è vietata nello street mode quindi non lo useremo perché noi useremo solo lo street mode come vi dicevo non c'è per il numero una distinzione tra interi e numeri reali ma semplicemente si può utilizzare il numero che si vuole ci sono una serie di conversioni automatiche secondo l'operazione che dovete fare quindi se voi volete sommare un intero e un reale l'operazione di somma farà la conversione appropriata per realizzare la somma quindi in quel caso trasformerà automaticamente l'intero in un reale e farà la somma con i numeri decimali e sui numeri dato che non c'è la distinzione c'è anche un un altro tipo sempre che si associa al valore che si chiama bigint che è stato introdotto in s11 quindi molto molto più avanti rispetto a s6 che è un intero con una precisione arbitrale arbitrabile che può rappresentare fino a 253 numeri diversi quindi molto molto grosso se non vi basta l'int la grandezza dell'intero volete un numero molto grosso si può utilizzare da s11 e quindi giusto l'anno scorso questo bigint che si definisce come un numero e si mette un n in fondo per indicare che non è un t non è un t un numero normale ma è questo big numero big altri due altri due valori speciali che avevamo visto nella tabella all'inizio sono l'undefined del null il null rappresenta un valore vuoto in maniera analoga a quello che sapete da altri linguaggi undefined invece dice che la variabile è un valore speciale che ci dice che una variabile è stata dichiarata ma non è ancora stata inizializzata e si può sapere se una variabile è undefined attraverso la questa operazione quindi type of variabile a triplo uguale undefined quindi se noi nel nostro esempio fatemelo sistemare di nuovo in modo che funzioni ecco facevamo così quindi dichiaravamo c qui mettevamo 5 dentro c e lo stampavamo prima questo c adesso non può essere più un numero perché non l'abbiamo riempito fino ad ora questo c che valore ha in questo momento non avendola ancora inizializzata ha come valore undefined quindi se noi stampiamo questo vedete che lui assume il valore undefined e se volessimo sapere appunto di che valore è c potremmo scrivere type of c nome della variabile uguale undefined per esempio dentro un if se c è undefined allora fai qualcosa altrimenti se non è undefined fai la somma null null e undefined sono chiamati valori nullish quindi valori quasi null l'altra cosa che avevamo visto in quella tabella questa no qui scusate nei quasi viri nei quasi falsi era questo nota number questo nota number è un valore speciale di javascript che si può scrivere n a n con le due n maiuscole che in pratica come tipo diciamo così come tipo come valore il valore assume il tipo numero quindi non è un num numero ma non è una stringa è proprio un numero ovviamente se fate delle operazioni aritmetiche con nota number vi da un errore allo stesso modo se voi cercate di sommare magari due stringhe o una stringa è un numero vi può dare questo nota number come risultato cioè il risultato dell'operazione non è un numero quindi è un altro valore speciale che identifica che un qualcosa non ha funzionato bene o non ha funzionato come come doveva e ora ora che abbiamo introdotto le i booleani abbiamo introdotto le variabili parliamo un attimino di quei quasi falsi di quasi vero quindi manteniamo queste due va bene e possiamo scrivere se a mettiamoli uguali se a è uguale uguale a 6 scusa e a b allora console.log 6 allora ricordandovi quello che abbiamo detto in questa tabella qui che cosa mi aspetto dal se eseguo questo programma mi aspetto che stampi 6 oppure no sì sì sei come stringa sì sì che stampi questo che stampi va bene che stampi sono uguali ok così abbiamo meno differenze ok quindi provo a farlo in effetti è giusto comportamento atteso normale se io faccio così abbiamo detto che le stringhe le indichiamo con una singola virgoletta ma va bene se io faccio così secondo voi stampa sono uguali oppure no ho detto che a è il numero 6 e b è una stringa che ha dentro il numero 6 mi stampa sono uguali oppure no c'è qualcuno che dice no qualcuno che dice sì non entra nell'if quindi no ok guardiamo cosa succede allora qualcuno diceva sì e aveva ragione perché a numero confrontato con scusate 6 numero confrontate con 6 stringa in questo caso viene viene detto che sono la stessa cosa questo perché come dicono come dice in chat questo perché quest'operazione qui di uguaglianza con i doppi uguali che è quella che siete abituati da altri linguaggi di programmazione esegue una conversione automatica quindi cerca di mettere questi due nello stesso tipo quindi in questo caso come numeri e quindi questo 6 stringa potrebbe venire convertito in 6 numero e quindi poi a quel punto 6 è uguale a 6 questa è un'altra di quelle particolarità di javascript e infatti esiste questo operatore qui il triplo uguale che risolve questo problema il triplo uguale non effetta nessun tipo di conversione e quindi se eseguo node se eseguo inizio vedete che non stampa niente proprio perché a questo punto senza conversione sto confrontando un intero con una strega e quindi giustamente non sono uguali questi due valori questo è quello che è scritto qui vedete a uguale a b converte i tipi e confronto i risultati questo con triplo uguale invece non fa questa conversione di tipo automatico ma comunque permette di fare il confronto dei risultati questi valori teneteli in mente perché se dite se una cosa è uguale a undefined sappiate che undefined viene contato come false quindi scrivere se è una cosa uguale a undefined è uguale a scrivere se è una cosa uguale a false o se è una cosa uguale a zero o a meno zero o not a number è uguale a scrivere false in quei casi o anche una stringa vuota e poi le stesse regole delle operazioni booleane si applicano in base a quello che dovete fare una variabile vale null quando o quando l'esito di un di un'operazione da null esattamente come in altri linguaggi di programmazione oppure quando tu scrivi let c uguale a null quando tu gli assegni null invece di non assegnargli niente gli assegni questo valore vuoto solo che in javascript puoi scrivere così se vuoi assegnare un valore vuoto ma potessi anche scrivere così quindi gli assegni nessun un valore non definito è un tipo in più che hai rispetto al null o rispetto all'altro ecco le variabili le abbiamo già viste le variabili ricordate sono riferimenti puri si riferiscono a un valore e ovviamente come abbiamo visto la stessa variabile può avere poi diversi valori all'interno del stesso programma e anche diversi tipi una volta può contenere una stringa una volta può contenere un numero e quant'altro c'è un altro concetto in javascript per quanto che riguarda le variabili che è riassunto in questa tabella ecco tra l'altro var si può anche ridichiarare quindi voi potete scrivere var c uguale 5 e poi sotto riscrivere var c uguale 7 quindi ridichiarare la variabile anche se l'avete già dichiarata mentre con let e const no si comportano di nuovo più come variabili si comportano più come variabili degli altri linguaggi null è diverso da undefined a livello di uguaglianza cosa vuol dire? cioè vuol dire che se questo è null e questo è undefined gli stampa sono uguali intendi questo? beh direi possiamo anche provarlo ma se noi guardiamo questo entrambi sono definiti come falsi quindi stiamo dicendo se è false è uguale a false quindi proviamolo pure ma la risposta con i doppi uguali perché deve convertirli è sono uguali con i trippi uguali ovviamente no perché null e undefined sono due tipi molto diversi ah sì vi stavo dicendo che nelle variabili ci sono c'è un altro concetto che ci interessa al di là dell'hosting e del fatto che si può ridichierare e si può riassegnare che è quello dello scopo che è un concetto molto importante in javascript che impatta anche altri elementi tipo il this che vedremo un po' più avanti innanzitutto fatemi dire una cosa sul const io ho detto che il const è una sorta di costante non si può riassegnare e questo è vero abbiamo visto per i numeri è vero per le stringhe è vero per tutto il resto non è vero per esempio per gli array nel senso che se io avessi questo array poi posso scrivere b uguale 2 3 perché? perché in realtà io ho assegnato qui ho detto b ha un array che cosa ha dentro l'array è un altro discorso che non è collegato strettamente a b quindi non posso riassegnare non posso mettere un oggetto non posso mettere un numero qui questo non è non è permesso ma se io cambio il contenuto dell'array invece questo è permesso anche se b è const ok? questo lo rivedremo meglio quando faremo gli array e gli oggetti ma ovviamente si può già tenere in considerazione adesso dicevo sì 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 anche con un numero maggiore di elementi perché in realtà lo si vede bene qui lo si vede bene qui ah no in realtà no sì perché è scritto sbagliato scusate forse con gli array no mi confondo solo con gli oggetti esatto con gli array no perché ovviamente si prende l'intero oggetto giustamente colpa mia ma con gli oggetti sì quindi se noi usiamo un oggetto invece sì invece se noi usiamo un oggetto noi possiamo poi modificare a piacere con l'oggetto certo non così vabbè e poi lo vediamo non con questa sintassi perché in realtà è così CA uguale a 2 poi se non è neanche così ci arriviamo dopo ok si può chiuderti ok vedete in questo caso non posso modificare direttamente C scusate ma dato che C ha dentro un oggetto posso andare a modificare il valore dell'oggetto collegato a C quindi non modifico direttamente C ma il suo valore all'interno sì questo ovviamente era per far vedere che appunto const non può essere modificato interamente ma quello all'interno in questo caso come un oggetto può essere poi modificato quindi invece di modificare C ridefinire C non si può ridichiarare C non si può rinizializzare C con un altro valore ma posso andare a prendere un pezzettino di C e cambiargli un valore al suo interno dicevo un altro concetto importante sì probabilmente si poteva modificare l'array accident all'indice esattamente così ero io che sbagliavo la sintassi non si può rimpiazzare tutto ma solo un pezzettino dicevo un altro concetto che hanno le variabili è il concetto di scope vediamolo sull'esercizio slide che va prima il concetto di scope è un concetto abbastanza usato come vi dicevo in javascript ed è il concetto per cui ogni variabile esiste all'interno del suo scope ed è scope che contengono quello quindi mentre io non posso scrivere abbiamo visto una cosa così perché non posso ridefinire let a uguale 5 perché esiste già una variabile definita come let che si chiama a infatti dice che l'identificatore è già stato dichiarato questo perché perché questo è tutto all'interno dell'unico scope dello scope globale quello che racchiude l'intero programma e quindi all'interno dello scope io ne ho già una cosa che si chiama a di tipo definita come let quindi non posso averne un'altra ma se io creo un nuovo scope che tipicamente questo è un modo di creare uno scope quindi parentesi graffa aperta e chiusa e dentro del codice ovviamente non lo si fa mai così però volendo si può fare per esempio uno scope può essere la creazione di una funzione quindi se qua invece di esserci scritto parentesi graffa c'è la funzione aperta parentesi tonda qualcosa parentesi graffa e questo è il corpo della funzione all'interno del corpo della funzione posso ovviamente ridefinire le variabili come voglio quindi avevo un let a al di fuori nello scope globale e in questo scope particolare io posso ridefinire let a e quindi qui mi stamperà 5 e in questo punto invece mi stamperà 1 questo ognuno di questi viene chiamato un blocco e let e const sono variabili che hanno lo scope all'interno del loro blocco non all'interno del blocco per esempio precedente questa no vedete esistono solo nel loro blocco definito e interno quindi in questo caso questo let a esiste qui appena esco fuori da questa parentesi graffa la variabile a non esiste più ed esiste quella che era definita precedentemente in maniera analoga a quello che in maniera simile a quello che capita ad altri linguaggi di programmazione var non rispetta questa regola quindi questo vale per let questo vale per cost var come ulteriore stranezza se volete esatto non non rispetta questa regola è nello scopo globale quindi è visibile sempre dappertutto da tutti ma tanto si può riassegnare si può fare scusate è nello scopo globale e anche in quella delle funzioni che contengono e tanto si può ridichiarare riassegnare normalmente quindi da un certo punto di vista lascia molta più libertà ma quasi troppa libertà perché a quel punto uno non sa più se sta ridichiarando la variabile o meglio non si ricorda più magari non fa il grosso usando var se è già usato a come nome di variabile oppure no perché se l'hai già usato stai in realtà ridichiarando una variabile che è definita alla riga 5 mentre se non l'hai usata stai ridichiarando una variabile che è visibile solo in quello scopo solo in quel blocco quindi di nuovo ulteriore motivo per cui cerchiamo di preferire let e const perché si comportano un pochino più diciamo simili ad altri ad altri a variabili in altri linguaggi di programmazione e non hanno queste cose da tenere a mente ok chissà se ho già definito una variabile che si chiama nello stesso modo in passato o 20 righe su o 200 righe su o in un file che sto importando quindi quello si apre a problemi in continuazione utilizzare var let e const ci permettono di fare meno cose ma almeno sono sicuri che le cose che facciamo sono controllate per cui non possiamo ridichiarare un let che abbiamo già ridichiarato e all'interno di uno scop ne abbiamo nuove questo ovviamente sarà molto utile quando faremo le funzioni ma adesso in questo momento non abbiamo scop e non dichiariamo scop in questo modo con le parentesi graffe qui c'è un altro esempio di hosting ma l'abbiamo già già visto ok beh javascript questo possiamo farlo anche un po' velocemente ha una serie di operatori ovviamente l'abbiamo già visto l'operatore di assegnazione c'è anche l'operazione di addizione quindi si può scrivere x più uguale 5 esattamente come fareste in altri linguaggi x meno uguale che equivale a dire x più y o x meno y e quant'altro ci sono tutti l'operatore di assegnazione il bitwise end l'xor lo shift l'esponenziale la divisione quindi cose tipiche dell'assegnazione in molti linguaggi ci sono gli operatori di confronto li abbiamo già visti due abbiamo già visto l'uguale il doppio uguale che ritorna vero se gli operandi sono uguali dopo aver fatto la conversione e l'uguale stretto quindi il triplo uguale che ritorna a 3 e che ritorna a vero se gli operandi sono uguali e dello stesso tipo quindi senza aver fatto l'operazione e di conseguenza c'è anche il non uguale che si comporta in maniera analoga all'uguale per quanto riguarda la conversione e lo strettamente non uguale quindi quando volete confrontare davvero due valori esattamente senza conversioni usate l'uguale stretto e il non uguale stretto poi c'è il maggiore il maggiore uguale il minore il minore uguale questa è una nota che riguarda gli oggetti che io ve la dico ma poi la riprenderemo dopo i confronti sia con l'uguale stretto che con l'uguale normale si confrontano con le reference all'oggetto quindi queste operazioni quando si tratta di oggetti sono veri solo se sono lo stesso oggetto mentre sono falsi se sono oggetti diversi anche se hanno lo stesso contenuto per cui A che ha contenuto X e che ha una chiave X che ha assegnato il valore 1 e B che ha una chiave X che ha assegnato il valore 1 esattamente uguale col triple uguale sono falsi e col doppio uguale sono falsi in ogni caso sarebbero veri solo se facessimo A uguale uguale B uguale uguale A solo se è davvero lo stesso oggetto oppure B fosse una copia fosse un riferimento ad A neanche una copia un riferimento ad A allora in quel caso se sono davvero lo stesso oggetto proprio lo stesso A in questo caso sarebbero uguali se sono diversi oggetti anche con lo stesso contenuto questo tipo di operazione non li confronta e notate anche che il minore maggiore minore uguale maggiore uguale convertono l'oggetto prima e poi confrontano i risultati quando ci sono quando ci sono gli oggetti quindi cerca di convertire questo in un numero o in una stringa poi li confronta quindi bisogna stare attenti quando si hanno gli oggetti a utilizzare questo operatore di confronto ma si utilizzeranno le funzioni messe a disposizione degli oggetti quando bisogna fare queste operazioni per quelle operazioni che ci sono gli oggetti li vedremo la domanda è bisogna creare delle funzioni apposite per comparare gli oggetti diversi gli oggetti li vedremo e la risposta gli oggetti hanno dei loro metodi hanno delle loro funzioni che fanno le cose più comuni ma anche gli array hanno dei metodi che fanno delle funzioni che fanno le cose più comuni per esempio l'ordinamento esiste già una funzione che lo fa dentro javascript quindi le cose più comuni dovrebbero essere già implementate nella libreria standard sono già implementate nella libreria standard e conversione automatica dei tipi quindi quando si applicano gli operatori vi ricordate li converte tranne quando si usa lo strict equal e come funziona la conversione funziona seguendo questo seguendo questo schema quindi cerca di applicare le conversioni prima tra i tipi primitivi e poi applica gli operatori e alcuni costrutti vengono a volte usati per forzare una conversione esplicita quindi segue la regola del vero o falso quindi se siamo per esempio un booleano se tipo uno diventa vero se ho un booleano lo devo convertire perché lo devo confrontare con un numero un booleano se è vero diventa uno se è falso diventa zero una stringa e se ho un numero per farlo diventare un numero avrò vari metodi per convertirlo in un numero e di conseguenza un numero posso convertirlo in stringa col metodo to string col costruttore di stringa oppure facendo una concatenazione tra il numero e una stringa oppure da un tipo qualunque posso usare la regola del vero o falso quelle che abbiamo visto prima che è appunto la virgoletta singola è falso eccetera se dovesse convertirlo in booleano quindi questo è un ciclo di conversione automatici e non che possiamo fare per convertire da un tipo all'altro insomma tutti i tipi primitivi operatori primari land logico si scrive come doppia e commerciale or in questo modo e il not è semplicemente il not del punto esclamativo come in tanti altri linguaggi di programmazione operazioni comuni addizione estrazione decremento meno meno esiste il meno meno esiste il più più se si vuole incrementare di uno o decrementare di uno la moltiplicazione è un per eccetera quindi queste sono tutte cose abbastanza comuni c'è esiste anche l'operatore tarnare condizionale c punto di domanda scusate punto di domanda due punti quindi se il primo è vero allora se c è vero allora viene eseguito questo altrimenti viene eseguito quest'altro viene eseguito f type off era per controllare il tipo di un valore l'abbiamo visto con undefined ma uno può scrivere type off c e se c'era un numero verrà scritto numero e così via il più viene utilizzato per la somma ma se ci sono due stringhe può anche essere utilizzato per la concatenazione di stringhe quindi ciao come va col più vengono concatenati in un'unica stringa che è ciao come va con l'orologico c'è anche un idioma che viene utilizzato ogni tanto in javascript che dice a or or b che rappresenta se a then a altrimenti b praticamente se voi volete restituire a con un default di b potete utilizzare questo quindi se a non esiste allora se a è falso allora potete passare potete avere b ok va bene e poi esistono funzioni matematiche come potete immaginare esistono il logaritmo la radice quadrata il numero assoluto il seno il coseno l'elevamento di potenza il minimo il massimo insomma tutte le funzioni matematiche già incluse in in javascript in un oggetto che si chiama mat quindi mat.py pi vi dà appunto 3,14 15 eccetera quindi nel pi greco quindi una serie di costanti una serie di funzioni che sono a disposizione javascript per le operazioni matematiche strutture di controllo strutture di controllo in javascript sono largamente identiche a quelle di altri linguaggi di programmazione come abbiamo detto simili al c per cui per esempio questo è l'if se condizione oppure l'else oppure esiste l'else if esattamente come in c e dove questa condizione valgono regole del true false che abbiamo visto prima esiste anche uno switch in cui l'espressione però può anche essere una string in questo caso che switch espressione può anche contenere delle stringhe dove ci sono dei case l'etichetta 1 e l'etichetta 2 c'è un default uno statement con i condizionali normali diciamo che avete anche per esempio in c esattamente scritti allo stesso modo e uno l'abbiamo già visto abbiamo fatto prima l'if il loop statement esiste il for esattamente come lo scrivereste in c quindi for let i uguale a 0 i minore di 15 i più più fai queste cose un ciclo normale esiste il do while esiste il while e si può usare ovviamente il break e il continue come in ogni ciclo quindi se noi qua scriviamo per esempio for let i uguale 0 i minore di 5 i più più vedete facciamo console.log i per esempio allora a questo punto lui ci stamperà i numeri di questo ciclo 0 1 2 3 4 è un for normale come come gli altri tipicamente all'interno del for la variabile viene dichiarata qui non viene dichiarata prima viene dichiarata dove si usa direttamente ci sono poi due tipi speciali di for all'interno di javascript uno che si usa tipicamente per gli oggetti e uno che si utilizza per invece le cose che sono iterabili come gli array e non si possono scambiare per cui se voi dovete attraversare le proprietà di un oggetto dovete usare for variabile in oggetto per esempio qui c'è un esempio let a la variabile si dichiara di nuovo spesso direttamente nel for quindi per la variabile the in in questo oggetto stampo la variabile allora in questo caso stampo le due le due proprietà quelle che chiameremo chiavi se fossero mappe una x e la y invece for variabile off oggetto iterabile qualcosa che è iterabile ci permette di iterare sulle variabili di qualcosa che è iterabile come un array come un set come una stringa anche in quanto le stringhe sono iterabili carattere per carattere e in questo caso ritorna il valore quindi se iteriamo su 4 e 7 ci stampa 4 e ci stampa 7 non ci stampa la posizione nell'array se iteriamo for let a of hi ci stampa una volta h e una volta i non ci stampa di nuovo la posizione quindi tutto quello che è iterabile si può in aggiunta alla modalità classica questa si può anche utilizzare questa struttura for variabile of oggetto iterabile mentre se è un oggetto for variabile in oggetto e di nuovo non si possono scambiare se si vuole ottenere il risultato che si vuole ottenere ovviamente esistono poi altri metodi di iterazione che fanno parte della programmazione funzionale che vedremo fra una settimana per cui si può anche iterare in altri modi su per esempio gli array gestione dell'eccezione è esattamente identica a come ve lo aspettereste in un linguaggio di programmazione diciamo come in java e c'è il try c'è il catch e l'oggetto dell'eccezione chiamato anche un errore che viene lanciato dal throw e poi c'è il finally dopo il catch se volete e ci sono una serie di tipo di errore come questo per esempio c'è un reference error c'è un syntax error c'è un type error se magari si aspetta un numero voi non è ripassato un numero c'è il DOM exception che è un errore che riguarda invece il browser solo il browser eccetera e c'è il nome c'è il messaggio c'è il nome del tipo e c'è il messaggio dell'errore vero e proprio come abbiamo visto come abbiamo visto prima in Visual Studio Code per esempio questo vediamo se c'è ancora ecco questo è un reference error che viene lanciato automaticamente ma potremmo anche lanciarlo noi con un throw throw reference error e a quel punto c'è il messaggio in questo caso non posso accedere a prima dell'inizializzazione ok io anche se manca ancora solo mezz'ora alla fine farei 5 minuti di pausa giusto per rimettere in ordine le idee e poi ripartirei con l'ultimissimo argomento che sono gli array che sono anche abbastanza accorti ok il throw lancia un'eccezione lancia un errore il try il catch intercettano gli errori per gestirli il throw invece lancia un errore se vuoi che la tua parte di codice lancia un errore che qualcun altro possa gestire quindi facciamo questi 5 minuti di pausa metto solo in pausa la registrazione e alle mezzogiorno e 35 finiamo con gli array parliamo quindi di array allora gli array sono una struttura dati che già che già che già probabilmente conoscete da altri linguaggi hanno che particolarità hanno in javascript sono ricchi di funzionalità si possono fare veramente tante cose degli array anche perché gli array hanno elementi che non devono essere necessariamente della stesso tipo quindi voi potete avere un array che ha un numero poi una stringa poi un oggetto poi una stringa poi un numero potete mischiare se volete se ne avete l'opportunità o il bisogno anche valori di tipo diverso all'interno dell'unico array ha una sintassi semplice l'abbiamo vista parentesi quadra aperta e tonda per sapere la loro lunghezza hanno una proprietà non una funzione una proprietà che si chiama length notate che gli mancano le parentesi tonde è solo una proprietà quindi array array a a punto length vi dà quanto è lungo l'array e hanno metodi di default che modificano l'array in due modi o lo modificano in place quindi cambiano il contenuto dell'intero array ma che avete già oppure lo modificano ma restituiscono un nuovo array quindi l'array originale continua a essere esattamente come definiti in origine come si crea un array ci sono due metodi due modi principali per creare un array uno è usare la sintesi semplice quella delle parentesi quadre quindi questo è un array vuoto questo è un array con tre elementi uno due tre e questo è un array con quattro elementi che come vedete possono contenere al loro interno quello che volete un numero intero una stringa un numero di nuovo in questa volta reale e anche addirittura un booleano in questo caso proprio perché si può mettere quello che volete dentro un array il modo equivalente è utilizzare questa funzione array.of che genera un array a partire da un qualcosa che vi passate in parentesi quindi cerca di convertire quello che passate in parentesi questi tre numeri in un array corrispondente sono alla fine metodi equivalenti ovviamente in questo caso non potete definire un array vuoto mentre in questo caso con le parentesi quadre sì tipicamente si usa le parentesi quadre che sono anche più veloci da utilizzare a livello funzionale gli elementi in un array sono indicizzati da zero in poi fino alla lunghezza meno uno e non si può accedere agli elementi al di fuori del range quindi se un array a lunghezza quattro avrà elementi tra zero e tre e non potete accedere all'elemento cinque questo è abbastanza normale per un array come si aggiungono elementi in un array si possono aggiungere in tre modi in realtà diversi uno è il modo classico quindi se un array vuoto poi posso dire array v v di zero uguale a metto a alla posizione zero v di uno uguale a otto otto alla posizione uno e la lunghezza dell'array si aggiusta dinamicamente in automatico quindi se facessi un b2 uguale ciao avrei una lunghezza di tre a quel punto tutte le volte la lunghezza non si aggiorna gli altri due modi sono usare push o usare unshift qual è la differenza è che push mi aggiunge quindi ho un array v v.push qualcosa mi aggiunge l'elemento alla fine dell'array quindi push viene messo in questo caso alla posizione zero e poi otto viene messo alla posizione uno perché è la coda dell'array un altro metodo che si chiama unshift è l'equivalente funziona diciamo per inserire elementi in un array ma invece di aggiungerli alla fine dell'array li aggiunge all'inizio dell'array quindi v.unshift a beh lo metterebbe sempre alla posizione zero perché non c'è nient'altro ma v.unshift 8 metterebbe l'8 prima di a all'inizio dell'array e poi la lunghezza sarebbe sempre due quindi tre modi per aggiungere due modi principali per aggiungere l'array metodo classico si accede all'indice e si assegna il nuovo valore oppure utilizzando un metodo o push o unshift dove push inserisce in coda e unshift inserisce invece in testa all'array e la lunghezza come proprietà si aggiusta in automatico e ovviamente dato che c'è push c'è unshift ci sono anche metodi per rimuovere elementi da un array che sono shift e pop dove pop rimuove in coda e shift rimuove all'inizio e questi sono metodi che funzionano in place quindi modificano l'array originale che voi state manipolando non generano un nuovo array come si copiano gli array beh questo penso che dovrebbe essere ovvio a tutti no? perché questo non funziona perché se io faccio eseguo questo codice ottengo che alias avrà a e 5 ma se stampo b anche v avrà a e 5 se qui stampo entrambi sia a sia b che alias perché ottengo questo risultato? esatto esatto no? perché non sta davvero facendo una copia sta semplicemente facendo un'assegnazione quindi quello che avete in realtà scritto nella slide nella chat in modi un po' diversi ma fa un'assegnazione questa è un'assegnazione assegno b ad alias quindi si sposto solo copio il puntatore come abbiamo visto anche prima copio solo il puntatore non copio l'intero array se voglio fare una copia vera e propria c'è un metodo che si chiama array.from allora array.off ci permette di creare un array da degli elementi di partendo da 1, 2, 3, 4 array.from ci fa una copia in questo caso di un array una copia che però è una copia tenete presente è una shell of copy una shell of copy quindi se dentro l'array ci fossero altri array in realtà io ho un oggetto io stare copiando il puntatore all'interno di questo secondo array non stare facendo la copia di tutti gli array che sono inclusi in tutti gli altri array all'infinito quindi è solo una copia diciamo così di primo livello una copia debole però è una copia vera e propria per cui il copy vedete anche da questo disegno è effettivamente una copia e quindi manipolando copy non manipolo ovviamente v o alias array.from crea anche lui un array da un oggetto che sia iterabile dato che un array è un oggetto iterabile è una cosa iterabile allora appunto posso creare quindi di nuovo la differenza array.of crea un array da degli elementi non necessariamente iterabili anche da 1,5 virgola ciao da degli elementi qualunque array.from crea un array da un qualcosa che deve essere già iterabile a sua volta come un array o come un set ci sono una serie di strutture dati che sono iterabili tipicamente le strutture dati non i dati primitivi sono iterabili beh come si itera sull'array in parte l'abbiamo già visto o si usa il for normale let a uguale a 5 i minore di a minore di 5 a più più oppure col for off che è preferito e poi ci sono altri iteratori di tipo funzionale tipo il for each che vedremo dopo sono qui giusto per dire funzionano con gli array vengono utilizzati con gli array e li guarderemo poi al momento per iterare su un array cerchiamo di usare for off non for in perché in non si applica agli oggetti che sono iterabili come gli array poi l'array ha una serie di metodi principali resi a disposizione da javascript concat con catena duo più array e restituisce un nuovo array quindi non modifica nessuno dei due originali join unisce tutti gli elementi di un array in un nuovo in una stringa quindi ho un array o un altro array faccio una join e ottengo una stringa con tutti gli elementi dell'array slice estrae una sezione di un array e restituisce un nuovo array splice rimuove elementi da un array ma non restituisce un nuovo array ma li modifica in posizione a differenza di slice che invece restituisce un nuovo array reverse inverte l'array contenuto dell'array in post in place quindi senza restituire un array modificando l'array originale così come sort ordina l'array dove è l'array originale poi index of per prendere il primo indice del match dell'elemente che si sta cercando last index of l'ultimo e include cerca per un valore che è stato specificato qui tra l'array restituisce vero se il valore è stato trovato quindi l'array include 5 se include 5 nei suoi valori è stato trovato e da true altrimenti restituisce false metodi abbastanza comuni e niente di particolare la differenza la cosa da tenere d'occhio è quali di questi cambiano l'array tipo splice o reverse o sort e quali invece restituiscono un nuovo array come concat join che restituisce una nuova stringa o slice che restituisce anche lui un nuovo array dopo aver fatto l'operazione un'altra caratteristica degli array è che si può sono destrutturare gli assignment cioè io posso scrivere una cosa così let xy uguale 1 2 cosa vuol dire? vuol dire che i valori questi valori qui sono estratti e memorizzati nelle variabili che ci sono a sinistra quindi dopo aver fatto questa operazione x conterrà 1 e y conterrà 2 allo stesso modo se io faccio così posso definire fo come array che contiene 1, 2, 3 scritto come string e poi posso definire magari con let non con var tre variabili 1, 2, 3 in cui mi assegno fo questo praticamente scompatta di struttura prende i singoli elementi di fo e li va a mettere nei tre in questo caso nelle tre variabili che c'erano prima questo è molto utile per esempio per passare a ritornare valori da funzioni quindi una funzione in javascript un'anticipazione può tornare più di un valore e noi possiamo memorizzarle in questo caso in variabili diverse quindi se voglio convertire qualcosa in cartesiano mi restituirà x e y e a quel punto io avrò x in una variabile e y in un'altra variabile e potrò anche utilizzarli indipendentemente l'una dall'altra per fare le mie operazioni un altro operatore molto comodo per gli array ma non solo è l'operatore di spread che si identifica come tre puntini vedete uno, due, tre e si utilizza spesso col destructuring che abbiamo visto prima e l'operatore di spread espande un oggetto iterabile quindi vale per il array ma vale per qualunque oggetto che sia iterabile nelle sue parti quindi io per esempio vorrei mettere due, tre, quattro in una variabile e x e invece uno in un'altra variabile cosa faccio? posso scrivere x virgola tre puntini y questa sintassi dice prendo il primo valore perché ovviamente vado in ordine e lo metto dentro x poi tutti gli altri li metto in questo y questo y a sua volta non sarà una variabile semplice ma sarà un array quindi questo è utile quando ho un array magari molto lungo e voglio dividerlo in qualche modo quando ho un oggetto iterabile molto lungo voglio dividerlo in qualche modo per distribuire diversamente le cose potevo anche scrivere x virgola tre puntini y virgola z in quel caso in x ci sarebbe stato uno in z ci sarebbe stato quattro e in y ci sarebbe stato due o tre quindi tutti gli elementi che c'erano in mezzo a quel posto lì qui c'è un altro esempio invece con le parole che mostra quello head parts and shows parts prende questo array e lo in questo caso fa il contrario lo scompatta in un array unico all'interno di un array perché da due va in questo caso c'è un'unica posizione ma ne metto due quindi lo espando e lo scompatto quindi sia utile per estrarre pezzi sia per inserire se volete un pezzo all'interno di un altro array in una posizione arbitraria e questo questo qui funziona ovviamente come avete visto sia a sinistra che a destra dell'assignment qui serve per scompattare in un certo senso e qui invece che è a a destra serve per invece scompattare sempre un array se vogliamo dire così ma all'interno di una posizione questo è l'operatore di spread ecco dato che l'operatore di spread estrae gli elementi ad un array vi abbiamo detto li scompatta un pochino un modo per copiare differente da array punto from e dire b uguale quarantesi quadra puntini 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 a perché questo a a questo punto non è più un array non è più un oggetto iterabile ma viene prima scompattato diciamo così nei suoi valori individuali e a quel punto viene messo all'interno di un array quindi questo è un altro modo per fare una shallow copy stringhe davvero l'ultimissima cosa ma l'abbiamo già potete già immaginare cosa sono le stringhe come funzionano e l'abbiamo già letto le stringhe sono caratteri di unicode sono caratteri però sono una sequenza ordinate di caratteri unicode che sono immutabili quindi a differenza degli array non potete fare dei cambiamenti in place semplicemente restituirà sempre una nuova stringa qualunque operazione sulla stringa la lunghezza di una stringa è il nome il numero di caratteri che contiene quindi il numero degli elementi esattamente come la lunghezza di un array e sempre partendo da zero esattamente come gli array non esiste il concetto di caratteri in javascript una stringa di un unico elemento sarà sempre una stringa non sarà un carattere e le stringhe possono essere definite o con la virgoletta singola o con la virgoletta doppia questa l'abbiamo già visto noi cercheremo di preferire la virgoletta singola ma in alcuni casi solo per esempio quando si lavoreremo col json molto più avanti e solo le virgolette doppie solo le stringhe con le virgolette doppie possono essere verranno passificate in maniera corretta in questa sintassi quindi questa è un'altra anticipazione di una cosa che succederà tra molto tempo però potete scegliere se virgoletta singola o virgoletta doppia secondo la guida di stile di google meglio virgoletta singola ma in alcuni casi come in questo solo virgoletta doppia funziona dato che la stringa è immutabile tutte le operazioni ritorneranno sempre a una nuova stringa però si può fare stringa di 3 vi da il carattere alla posizione 3 si possono concatenare le stringhe l'abbiamo già detto col più metterle insieme s.length vi da il numero di caratteri della stringa di nuovo length è una proprietà non ha le parentesi tonde esattamente come per gli array ci sono poi una serie di metodi delle stringhe tutti quelli che vi potete aspettare c'è il metodo concat che si può concatenare esattamente come il più c'è l'index of c'è l'ast index of c'è start with se la stringa inizia con una specifica sottostringa c'è char at se la posizione specifica di un carattere interno della stringa nonostante non ci sia il concetto di carattere c'è split c'è slice c'è substring per ottenere un sotto insieme della stringa c'è un search c'è un replace to lowercase se è una stringa maiuscola to uppercase per convertire una stringa tutta in maiuscola tutta una serie di metodi che sono poi metodi che vi potreste aspettare per funzionare con le stringhe quindi tanti metodi sulle stringhe questi sono i principali ma poi ce ne sono altri già dentro javascript dentro la libreria standard quindi di nuovo probabilmente quello che le operazioni da fare sulle stringhe si sono già supportate dalla libreria standard per javascript e poi caso per caso esercizio per esercizio vedremo quali potrebbero essere più utili quali meno utili vi ho detto all'inizio e questa è davvero l'ultimissima cosa che le stringhe si possono definire con la virgoletta singola o con la virgoletta doppia e che c'è un terzo tipo che definisce le stringhe col backtick questo accento no? e queste le stringhe in questo accento sono stringhe e si chiamano anche template literal perché? perché al loro interno possono interpolare del codice possono interpolare del javascript quindi all'interno queste stringhe accettano queste sintassi dollaro aperta graffa variabile chiusa graffa quindi se io ho una variabile name a cui assegno bill poi posso dire con il template literal hello segno del dollaro parentesi graffa nome della variabile chiusa parentesi graffa chiuso backtick e questo mi interpolerà il contenuto della variabile qui all'interno e quindi scriverò scriverà hello bill e l'equivalente di scrivere hello quindi di scrivere hello tra virgolette singole più hello spazio più name è un modo per concatenare le stringhe ma in questo caso ci dà anche più flessibilità perché questo potrebbe anche essere questa frase poteva andare avanti qui ci potrebbe essere una virgola e si potrebbe andare avanti e quindi questo è un modo per inserire in maniera quasi chirurgica alcuni valori alcuni variabili all'interno di una stringa anche più di una perché basta poi ripetere questo dollaro parentesi graffa parentesi graffa molto utile molto rapido per formattare stringhe anche poi quando lo useremo nel web perché è facile passare un id mettendolo direttamente lì mantenendo la struttura della stringa uguale e in aggiunta i template literal come questi possono anche andare su più linee quindi si può mandare a capo la stringa e continuare a scriverla come se fosse una stringa che va avanti su appunto più linee più di una linea la prossima volta magari iniziamo con un esempietto sugli array e sulle stringhe prima di procedere su sugli oggetti e sulle funzioni ok domande sì questo è l'equivalente di fare hello aperta virgoletta hello spazio chiusa virgoletta più name più punto chiusa virgoletta sì esattamente è un modo più complicato più anche sofisticato se vuoi interpolare stringhe in quel modo cosa significa in generale il termine literal literal significa questo literal qui in generale literal è letteralmente appunto literal non saprei come allora in questo caso si applica è il nome di questo di questo tipo di stringhe che si chiama template literal perché sono dei template i literal proprio in generale se ne vuole vedere le prime slide quando vi dicevo i literal posso iniziare con con le lettere i dollari e l'underscore sta a indicare stringhe parole stringhe quindi per esempio le variabili sono dei literal e qui si chiama template literal anche perché all'interno hanno delle variabili c'è un modo semplice per scrivere backtick in realtà sia in italiana dipende dal sistema operativo su mac mi sembra che sia command 4 o command 5 o command shift 4 insomma c'è qualche combinazione di tasti su windows ci sarà alt e un certo codice per scriverlo fatemi provare io sono su mac quindi in realtà è qua no non su javascript code comunque sì c'è sicuramente una combinazione di tasti dipende dal sistema operativo per cui scrivere il backtick in chat ci sono vari suggerimenti alt più i accentato oppure alt alt più lo slash oppure alt più 96 sul mac alt più lo slash esatto sul mac per esempio su viso studio ecco viso studio code uno scritto in javascript vi fa già il doppio backtick quindi potete scrivere hello dollaro e a e quindi console.log questa lab qua e se non facciamo errori e lo eseguiamo dovrebbe stampare hello 5 perché a era 5 ok ok altre domande perfetto allora se avete altre domande comunque potete scrivere su slack nel canale discussion e qualcuno noi ma magari anche i vostri compagni vi possono rispondere è un canale aperto a tutti non è che dobbiamo solo rispondere noi se avete una risposta a una domanda che viene fatta sentitevi liberi di rispondere o un suggerimento o un qualcosa e magari mentre aspettate la nostra per esempio risposta giovedì useremo solo slack come chat quindi non useremo più la chat di zoom e giovedì parleremo di oggetti e di funzioni più magari un esempio su stringhe e array giusto per consolidare un pochino queste due ore di introduzione a javascript che sono un po' veloci ma cerchiamo di consolidarle meglio giovedì con qualche esempio in più anche sulla parte di oggetti di funzione quindi io stoppo la registrazione questi video adesso li metto sia su youtube che sul portale della didattica che sono così disponibili e poi noi ci vediamo giovedì di nuovo se avete domande usate pure slack e mercoledì e o mercoledì potete anche venire nell'ora di consulenza grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.